Tanto benvenuta Cristina, grazie per essere qui al Mercato Comunale di Viale Monza o Mercato Crespi come lo chiamano in quartiere e in questo spazio che è off campus. Ci sei già stata dalla prima volta, si è venuta l'inaugurazione e poi anche per un piccolo progetto che stiamo portando avanti di spesa su spesa. Cosa ne pensi del fatto che ci sia un'università all'interno di un mercato comunale? Quando abbiamo provato a presentare questa cosa ci sembrava bizzarra già a noi e quindi posso immaginare magari anche la reazione del comune. Per noi è stato un risultato positivo ottenuto all'interno di un percorso che tu conosci bene che è quello di riqualificazione dei mercati comunali coperti che vede in questo spazio fisico e nella vostra presenza qui sicuramente l'esperimento più originale perché in altri luoghi della città, in altri mercati coperti abbiamo provato questo percorso di ibridazione tra le attività commerciali ed attività di natura sociale, culturale con la presenza di associazioni ma mai in nessun altro spazio un'università come il Politecnico di Milano aveva manifestato interesse a sperimentare, a ibridarsi in un luogo che se vuoi è molto tradizionale. Questo sicuramente anche per il Politecnico in linea con tutto ciò che riguarda il programma di responsabilità sociale che è stato iniziato un po' di anni fa, si chiama PoliSocial e cerca proprio di portare la terza missione ad occuparsi di tematiche sociali, di entrare nei territori e di provare a condividere le competenze politecniche con le comunità. in particolare Off Campus Nolo che è questo spazio qui è il secondo di una serie, il primo è stato aperto a San Siro due anni fa in un complesso di case Aller e ci sono in programma anche un paio di altre aperture. Per noi entrare nel mercato comunale di Via Le Monza è stato un po' anche una fine di un percorso e inizio di un altro, una fine di un percorso perché come sai già da 5 anni come dipartimento di design lavoriamo sul territorio con le comunità locali, con le associazioni cercando di portare un po' di progettualità e soprattutto su questo mercato abbiamo lavorato per diverso tempo un po' per provare a immaginarcelo un po' diverso. Credo che la strategia del comune in questo momento sia molto interessante sui mercati e tu hai parlato sempre molto in questi ultimi anni di ibridazione, secondo te l'ibridazione è una cosa che oggi nelle realtà commerciali è una carta vincente, è una prospettiva di rinascita anche un po' per alcuni spazi o è semplicemente un fenomeno passeggero? Io credo che sia un fenomeno di medio-lungo durata che diciamo è anche frutto di una grande trasformazione nel mondo del retail e quindi del commercio al dettaglio che è l'avvento dell'e-commerce. Noi abbiamo osservato nella città di Milano diciamo in fase pre-covid ma penso che il covid abbia semplicemente accelerato dei processi già in corso. Da una parte appunto la diffusione del commercio elettronico, del commercio digitale, delle grandi piattaforme di e-commerce e dall'altra parte una risposta originale di alcuni luoghi di commercio che non potendo competere sullo stesso livello delle piattaforme in termini per esempio di prezzo, di velocità di consegna hanno scelto una via diversa e la via è quella di offrire ai consumatori non soltanto un prodotto diciamo una merce che i cittadini possono trovare magari anche a prezzi più bassi su piattaforme digitali ma un'esperienza di relazione diciamo un'enfatizzazione della dimensione umana, del contatto, della possibilità di fruire non soltanto dell'attività di vendita ma di qualcos'altro. Questo qualcos'altro è spesso appunto relazione, attività di natura sociale diciamo incontro, molti negozi hanno cominciato ad offrire anche per esempio corsi di formazione, mostre, esperienze di bellezza di poter fruire di diciamo spazi espositivi anche e io credo che questo percorso sia un percorso abbastanza irreversibile perché da una parte il cambiamento dovuto al digitale diciamo spinge a una competizione sul prezzo che non è raggiungibile da tutti gli operatori commerciali sul territorio, dall'altra parte però i cittadini e i consumatori cercano qualcosa di diverso e questo qualcosa di diverso è sicuramente molto legato alla relazionalità diciamo all'esperienza, alla dimensione sociale aggregativa. Penso anche che questa dimensione con il Covid troverà un'enfatizzazione perché la nostra abitudine diciamo a lavorare anche da remoto all'utilizzo di piattaforme da una parte ci offre delle possibilità nuove, dall'altra parte però ci indica che la relazione umana, il contatto anche in presenza è ineliminabile ed è desiderabile. È molto particolare anche osservare che i nostri mercati comunali coperti anche durante i mesi più duri del lockdown sono rimasti diciamo degli spazi aperti di fruizione e di relazione non soltanto per le necessità di acquisto di beni alimentari ma le persone ci si sono recate anche perché erano spazi familiari diciamo della dimensione del quartiere, del territorio che è tornata ad essere centrale. Un po' quell'idea di città a 15 minuti che molte aree urbane a livello internazionale stanno indicando come prospettiva per il prossimo decennio perlomeno e anche Milano confida in questa possibilità mettendo al centro di questi quartieri a 15 minuti spazi a vocazione ibrida come ricordavi tu e i mercati comunali possono esserlo per diverse ragioni. La città a 15 minuti sicuramente si può dire in questo momento che c'è una forte sperimentazione da parte dell'amministrazione comunale rispetto ad alcuni temi che vanno proprio incontro al trovare un mix di funzioni servizi a distanza di una camminata o a distanza di una biciclettata che siano poi 15 minuti, che siano 5, 10 diciamo l'abitare di prossimità, quasi come se in una città si riattivino un po' quelle dinamiche che un tempo tuttora ci sono nei piccoli paesi, però all'interno di un contesto invece che è una metropoli, una megacity sicuramente ci sono già delle buone pratiche, alcuni quartieri sono anche un po' più adatti però un po' per conformazione, un po' per vocazione, per natura. Nolo in questo momento è in una fase di trasformazione già dal nome, che un tempo non c'era e adesso si chiama così, o la chiamano così, ma anche perché ci sono stati diversi episodi da urbanismo tattico, alla pista ciclabile su Via Remonza, alle streeteries, quindi tutta la parte dei parcheggi che sono diventati spazi per i tavolini, libri d'azione del mercato, sono tutte parte di un sistema complesso che cercano di dare una risposta alle nuove esigenze delle persone. Dicevi prima, giustamente, i mercati sono rimasti aperti in un momento in cui tutto era fermo e era congelato e hanno saputo reagire all'interno di questo mercato ad esempio ci sono state anche delle iniziative da parte dei commercianti di consegna a casa che prima non avevano fatto. Noi stessi abbiamo organizzato la spesa sospesa dove all'interno di un contesto dove si vende cibo il cibo viene donato a famiglie bisognose, viene donato un cibo fresco a passo zero, quasi neanche a chilometro zero tramite delle donazioni fatte dagli abitanti del quartiere. Secondo te, rispetto anche a questa condizione al contorno questo nuovo desiderio di socialità che arriva un po' dalla società contemporanea ha dei riscontri anche sulla modalità di vita, la modalità di accesso ai servizi, un po' raccendavi prima sta cercando anche delle nuove forme di cooperazione, di vendita, di accesso al bene di consumo e come ti immagini che possa essere questa cosa da qui a 5-10 anni? Beh, devo dire che l'esperienza della pandemia e dei lockdown in qualche modo è stata acceleratrice di alcuni processi che erano già in corso. Noi durante questo anno che ci stiamo lasciando alle spalle abbiamo osservato da una parte lo svuotamento per ragioni sanitarie, per via dello smart working di alcuni luoghi della città, in particolare il centro storico, diciamo, i luoghi che erano diventati centri direzionali o con un'alta concentrazione di uffici, quindi soltanto luoghi di lavoro, spazi della città adibiti soltanto al lavoro. Dall'altra parte però, anche nei mesi più duri del lockdown del 2020, la dimensione del quartiere è tornata ad essere vitale proprio perché le persone, trascorrendo tutta la giornata, diciamo, nei luoghi e nei quartieri in cui vivono senza necessità di spostarsi e di pendolare da aree residenziali alle aree lavorative, sono tornate a vivere i quartieri. Nella tragicità, diciamo, di questa situazione io però vedo un'indicazione in termini positivi, anche per un'idea di sviluppo delle aree urbane, cioè quello di mixare la funzione abitativa con la funzione lavorativa all'interno, diciamo, dei stessi quartieri, delle stesse aree geografiche nelle città. Un po' l'idea dei 15 minuti è questa, cioè servizi e anche possibilità di spazi di lavoro. Oggi, diciamo, il tema del co-working o come lo chiamiamo noi near working, cioè la possibilità di lavorare nei pressi di casa, è diventata una possibilità molto più concreta per tantissime persone che prima non lo facevano e sarà destinata a permanere, diciamo, non è un passaggio, io credo, transitorio o reversibile. Questo ha degli impatti anche sulle attività commerciali. In questo anno, a fronte di una grave crisi delle attività commerciali dei centri storici o delle aree direzionali, abbiamo visto una rivitalizzazione dei negozi di vicinato, di prossimità, di quartiere, che hanno anche saputo, come dicevi tu prima, reinventarsi, cioè immaginare formule per avvicinarsi ai consumatori e ai cittadini, la consegna a domicilio, le attività solidali che hanno riempito la città anche nei momenti più critici. Quindi questa è una dimensione da accompagnare e su cui intervenire, concentrando, diciamo, gli sforzi e io credo anche l'immaginazione di attori di natura diversa, sicuramente le istituzioni, ma anche altri attori che in questa città hanno sempre giocato un ruolo importante. Penso i luoghi della cultura o della formazione come le università, ma anche la dimensione del terzo settore, dell'associazionismo, che hanno saputo lavorare con il settore pubblico storicamente, e io credo questo sia uno dei dati, diciamo, positivi della storia sociale e politica della città di Milano. In questo credo che i vostri progetti, come dire, siano esemplari. So che voi state immaginando, diciamo, anche altri passaggi, oltre a quelli già in corso, e questa possibilità di dialogare, diciamo, tra istituzioni, enti di formazione, università, per noi è arricchente, perché è proprio nella dimensione del dialogo che possono nascere anche nuove idee, nuove possibilità. No, ma infatti credo che sia una buona possibilità sia per l'università stessa, quindi parlo di tutto il mondo della ricerca, di avere occasione di lavorare sul campo, ma dall'altro anche di dare possibilità ai nostri studenti di uscire dalle aule, provare a fare delle cose con le persone, sul territorio, soprattutto magari anche quelli che da lì a poco entreranno nel mondo del lavoro, quindi come se fosse anche un'occasione di praticantato che ti insegna, ti istruisce, ti dà la possibilità di confrontarti proprio con le persone. Off Campus nasce anche un po' per questo. Al momento, per farti un esempio, abbiamo quattro tirocinanti e almeno tre tesi che stiamo cercando di coordinare su diverse cose, quindi su una progettualità che si vorrebbe portare all'interno di questo mercato, pieno di opportunità, ma anche sul quartiere. Per farti un esempio, abbiamo messo in piedi, cioè stiamo cercando di mettere in piedi, rispondendo dei bandi, il delivery etico di quartiere, provando a incrociare le esigenze del piccolo commerciante che è un po' in affanno rispetto alle tariffe della grande distribuzione, dei grandi canali di delivery esistenti e la mancanza di personale per poter fare le consegne, ma a fronte invece di una richiesta che ha avuto ovviamente un boom nella pandemia. E quindi ci stiamo un po' immaginando questo rider di seconda generazione che attraverso un percorso di formazione che possiamo fare all'interno dei nostri spazi con le competenze politecniche, ma anche con le competenze del quartiere. Molte partite IVA in questo momento sono un po' in sofferenza, ma sono centri del sapere. Quindi provare anche ad avere questa formazione anche qui a chilometro zero. Oppure cercare all'interno del mercato, ad esempio nel mercato comunale di Viale Monza, di andare ad agire sulla microprogettualità degli spazi. Abbiamo una facciata che è degna di un bene architettonico tutelato, che andrebbe rimesso un po' a nuovo. Abbiamo degli spazi esterni che possono diventare dei cortili sociali. E in questo stiamo cercando un po' anche di mettere a sistema alcune realtà interessanti che ci sono in quartiere. Sicuramente Radio Nolo, che abbiamo preso come primo partner, e oggi ha una sede all'interno di questo spazio. Ma anche altre realtà di quartiere che mettono in circolo un po' delle competenze, delle attività che vengono dal mondo della creatività, dell'arte, dell'imprenditorialità. I mercati comunali coperti a Milano sono diversi, soprattutto negli ultimi anni stanno avendo anche alcuni episodi di trasformazione interessanti. Quindi, a parte quello che sta succedendo dentro qui, quali sono, secondo te, un po' altri casi virtuosi che ci sono nella città di Milano? Beh, i mercati sono 23, quindi un numero importante e distribuito abbastanza omogeneamente sulla mappa della città. Quindi effettivamente sono presidi per ogni quartiere. Come dicevi tu, da qualche anno alcuni di questi spazi hanno cominciato un percorso di riqualificazione e di bridazione. Penso in particolare al mercato di Lorenteggio per rimanere in un'area periferica dove da tempo attività commerciali dialogano con attività associative, aggregative, con volontà inclusiva, dei abitanti del quartiere. Ma in modo diverso anche altri luoghi hanno cominciato a ripensarsi. Sempre in periferia il mercato Morsenchio ha aderito ad un nostro bando e ha creato un consorzio di operatori che si autogestiscono all'interno del mercato lavorando sulla riqualificazione degli spazi ma anche su attività aggregative del quartiere. In aree più centrali ci sono il mercato Wagner e il mercato della Darsena che in maniera diversa si sono ripensati e reimmaginati. Ma altri si stanno incamminando. Rombon che è un mercato che è stato storico e che oggi è praticamente deserto sta lavorando con noi ha un'idea di riqualificazione ad opera di Sogemi che è la società che gestisce l'ortomercato quindi sarebbe un ulteriore esperimento con operatori grossisti che costruiscono un progetto di vendita al dettaglio di prodotti soprattutto di filiera corta in quello spazio ma anche altri mercati più periferici. La sfida di questo progetto per noi è sempre stata sin dall'inizio quella di fare di più con meno perché ci lasciamo alle spalle una fase in cui i bilanci pubblici soprattutto degli enti locali sono sempre stati bilanci ridotti ogni anno di più e avevamo la sfida di spazi che necessitavano progetti di riqualificazione anche strutturali senza grandi risorse pubbliche da investire ma con una grande volontà diciamo di attivare risorse di altro tipo organizzative, progettuali e di compartecipazione tra pubblico e privato e questa è la cifra di questo percorso cioè immaginare insieme ad operatori di natura diversa dei processi virtuosi laddove le risorse pubbliche da investire purtroppo erano poche i temi che tu sollevavi anche le progettualità a cui facevi riferimento su questo mercato diciamo sono la dimostrazione di come si debba procedere provando a mettere insieme pezzi diciamo di progettualità di risorse che arrivano anche da altre fonti bandi, progetti europei e altro e questo rende tutto più faticoso ovviamente ma anche diciamo più stimolante dal punto di vista della cooperazione tra ente pubblico e soggetti di altra natura ti ringrazio molto per questo tempo che ci hai dedicato io spero di rivederti qui intanto con un mercato un po' più vivo in una situazione ancora di chiusura di parziale di alcuni esercizi ma soprattutto spero di rivederti qui quando avremo già magari introdotto alcuni miglioramenti con queste progettualità che stiamo cercando di mettere in campo e incrociando le dita con fondi che magari speriamo di avere quindi grazie ed è un arrivederci e sicuramente ci rivedremo prestissimo